Buongiorno a tutti e benvenuti alla sedicesima tabella del nostro percorso che potete trovare sulla pagina Facebook Touring Peschiera. Oggi siamo al Bastion Feltrin. Il Bastion Feltrin è stato costruito nella parte occidentale della nostra fortezza ed è stato il primo bastione ad essere stato costruito. Non è tanto visibile dal centro storico ma è ben visibile dal ponte di Porta Brescia. Come potete notare parte del bastione oggi viene a mancare perché infatti nel 1934 per mancati lavori di manutenzione parte della struttura è crollata. Successivamente sono iniziati i lavori di ripristino e di messa in sicurezza della struttura ma fin da subito le opere di ristrutturazione si sono presentate economicamente molto onerose e quindi si è deciso di sospenderle. Quindi la fortezza, la parte del bastione originale non venne più ricostruita ma venne messa in sicurezza la struttura. Vennero create delle terrazze ricavate dal terrapieno interno alle mura già esistenti. Su questo tabellone di Porta Brescia potete trovare le foto del pre e dopo crollo del bastione Feltrin del 1934. Quindi qua potete ammirare il cambiamento. Siamo arrivati alla fine del nostro percorso delle 16 tabelle. Speriamo che vi sia piaciuto e vi ringraziamo per essere stati con noi. Buona giornata!